è passata la notte fantastica e lei ancora sta dentro a letto ora ti faccio vedere che colazione devi fare il duce del caffè dai un bicchiere di champagne che sei meritato pulite il fumo tutta la terra mi fate mangiare la terra la signorina ti raccomando sale pepe deve essere così bella brusolito fuori e dentro juicy la mentuccia la conoscete un po' di buccia di arance un po' di pepe montate forte forte la ricotta che fai il cornetto glielo dai e ora pata negra mica ti vuoi presentare il prosciutto cotto nel supermercato no? per prima la ricotta se ne è meritato proprio questo porcino guarda che meraviglia e adesso è pata negra alle signore i fiori fanno sempre piacere mentuccia adesso chiudiamo il ciabannino la corsa ripiena di funghi i porcini pata negra edificatio che fai lì che fai lì che fai lì che fai lì che fai lì